Sto facendo i confronti con la sfilata di Stokkan L'ostario, perfetto Perfetto Inoltre al microfono a Manuel Afazio, prescritto del comunicato, Brescia, Rai Anzua Anzua, 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 Anzua Anzua, Anzua, Anzua la scosia, bene, ancora con le mani, con le mani bene, saremo sulla prima pagina di tutti i giornali, ma vi posso dire una cosa, che voi siete tutti nella prima pagina del mio cuore oggi, che grazie a voi è diventato grande, 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 grazie di cuore.